buongiorno a tutti benvenuti ci fa molto piacere fare questo evento insieme in presenza in un posto che è stato l'ultimo grande posto che abbiamo frequentato prima della pandemia mi ricordo l'osservatorio di due anni fa era stato fatto qui il setti che era diversa era un po' meno dark room quindi insomma devo dire non so forse c'è un motivo lo scopriremo poi chiedo a Amelia Verigoni che è la nostra capa del marketing qual è il motivo però insomma c'era una passarella era un po' più sfilate quindi però va bene va bene in questo modo allora io comincerei in questo siamo arrivati alla ventisettesima edizione del nostro osservatorio io ne ho viste qualcuna perché sono immessa ormai da 17 anni insomma è un impegno importante e quindi faccio una cosa inedita rispetto al solito io vorrei fare un ringraziamento e vi chiederei cortesemente un applauso per tutti i nostri colleghi per tutte le persone immerse che in questi anni hanno aiutato contribuito supportato supportato i clienti alcuni sono diventati i clienti e quindi io comincerei io voglio ringraziarvi perché sono molto molto felice sono molto orgoglioso di lavorare con voi e grazie a voi che tutto questo è possibile e quindi personalmente vorrei aprire l'evento in questo modo e vi chiederei un applauso oggi abbiamo un percorso l'abbiamo voluto fare secondo il nostro stile quindi competency driven questo è l'approccio della nostra azienda noi siamo una società di advisory di capitale intellettuale che fa della competenza e della qualità il suo filone professionale quindi come con questo modello abbiamo innanzitutto chiesto a due superstar della nostra organizzazione se posso usare questo termine Ravin e Kate di darci una outside view una outside view globale internazionale di raccontarci che cosa sta capitando come vedete Ravin in particolare il nostro global transformation leader quindi Mercer ha avviato una practice a livello mondiale che parla di trasformazione delle organizzazioni dove il concetto di trasformazione è più ampio della vecchio sviluppo organizzativo che qualcuno qui dentro ricorda perché la trasformazione adesso passa attraverso le tecnologie passa attraverso un'evoluzione del modello di business e molto molto più del vecchio sviluppo organizzativo e poi abbiamo chiesto a Kate invece di raccontarci i trend sul nostro global talent trend ora Mercer è una delle poche organizzazioni mondiali che può costruire un global talent trend ricordate è fatto intervistando migliaia di executives, migliaia di HR, migliaia di employees nel mondo e anche qui mi pare alla ottava o non edizione e presentandolo a qualche cliente qualche tempo fa sono andato indietro ci ho detto vediamo se funziona il nostro global talent trend che cosa ha detto negli anni passati e diceva un signore che si era candidato in politica ci azzecca no? Ve lo ricordate quel signore no? cioè che ci azzecca? prendeva abbastanza cioè centrava abbastanza i temi quindi era abbastanza effettivamente predittivo perché guardandolo con il passato con gli occhi attuali rispetto al passato centrava i trend che accadevano dopodiché non si può non parlare di inflazione quindi ho chiesto a un amico, ex collega nonché importante executive di una delle più importanti aziende italiane bancarie non a caso, Renato di fare un ragionamento su che cosa vuol dire l'inflazione per le nostre aziende perché ricordiamoci che siamo in un ambiente, in un setting comunque tecnico momento di confronto e di networking e poi avremo, abbiamo pensato proprio per arricchire il confronto per arricchire il trasferimento di esperienza abbiamo pensato a fare diverse break out la prima break out sempre con la logica azienda consulenza verrà guidata da Luca Baroldi insieme a Francesco Tutino di Veko e parleremo di Eschar come leva del cambiamento e della trasformazione del grande gruppo industriale quindi andremo a prendere il filone della trasformazione dall'altro lato Stefania Caccioli e Nabraia parleranno di digitalizzazione e di digital transformation con Alberto Signori di Brembo quindi andremo ad andare sempre in quel percorso che vi introdurranno sia Kate che Revy andremo a prendere il filone della trasformazione digitale di organizzazione poi abbiamo altre due break out session una guidata da Roberta Sapie e Francesco Bruno che toccano un tema importante che è la credit resignation e come alcune risposte grazie alla partecipazione di Silvia Cassano che ringrazio di essere qui con noi credo per la prima volta poi Silvia come speaker di riflettere cosa vuol dire fare un'offerta di Dota Reward per fare retention delle nostre aziende dopodiché avremo invece un focus la nostra è un'azienda che diciamo posso dirlo il nostro CEO è una donna quindi insomma noi esprimiamo abbastanza bene il tema almeno della diversità e inclusione di genere parleremo di leadership e di cultura intergenerazionale e parleremo di diversità e di inclusione tramite anche un intervento cross generazione di Laura e Valentina ci sarà anche una ricerca che verrà presentata che poi Laura e Valentina vi racconteranno insieme ovviamente a Anna Chiara Lucchini che ringrazio di Generali e a cui chiederemo faremo noto delle domande ma qual è che leadership noi ci dobbiamo aspettare per il futuro stiamo creando i giusti leader per il futuro delle nostre aziende delle nostre società insomma una domanda un po' aperta che anticipo ad Anna Chiara allora abbiamo pensato di spostare l'intervento del keynote speaker subito dopo pranzo e abbiamo chiesto al professor Roberto Poli che eh diciamo ringrazio di parlarci di sistemi anticipanti di complessità e innovazione e non anticipo null'altro quindi abbiamo abbiamo immaginato di fare un come dire un ragionamento diverso dal solito no? che però secondo la nostra percezione cioè di un Eschar al di là del ruolo che ha sempre più costruttore dell'organizzazione no? l'Echar è stato per un periodo ha reagito a dei bisogni di urgenza trasformazione ristrutturazione noi stiamo riportando un principio fondamentale di Eschar come ruolo strategico dentro le organizzazioni il professore ci offrirà una view abbastanza interessante credo chiederò poi a Luca Barogli e Alberto Navarra che diciamo gestiscono il nostro business career che noi chiamiamo però fondamentalmente tutto il nostro business che riguarda la consulenza sul tema people e organization di tirare un po' le conclusioni anche attraverso una instant pool no? se non ricordo male Luca quindi vi chiederemo di rispondere a una serie di domande questa è la nostra giornata come al solito l'ambiente è inclusivo aperto per cui vi chiedo di trasferirci i vostri pensieri le vostre le vostre considerazioni le vostre domande in un dibattito che spero ci sia diciamo in plenaria ma anche nelle sessioni e anche nei coffee black vi ringrazio ancora moltissimo la vostra partecipazione è un onore siamo circa 200 aziende se non ricordo mai rappresentate e come spesso dico insomma la crema delle organizzazioni del nostro paese quindi sentiamoci anche questo senso di responsabilità sociale no? cioè è molto importante io credo che questo è un privilegio e quindi mi hanno insegnato un onore e un onere e quindi io vorrei che insomma anche in queste sedi ci ricordassimo di questo privilegio e questo onere allora io partirei la giornata ringraziando e chiederei a Ravin di unirsi qui a noi sul palco grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti